Cataldo, oggi un'altra opportunità per cercare la fuga? Sì, come già detto, ogni giorno è una buona occasione per cercare una fuga, quindi dobbiamo provarci, è proprio un tassativo per noi, essere attenti in partenza e sicuramente sarà una tappa non da scalatori come è imposta dalla nostra squadra, però comunque ci proveremo. Dove vedremo Dario Cataldo protagonista, più oggi o più nelle tappe alpine? Per me personalmente sarebbe più una delle tappe di montagna, quindi le ultime due che restano sicuramente saranno quelle dove cercherò di più di essere presente nel finale, comunque oggi con la squadra cercheremo in ogni modo di essere lì.